Di laureati ormai è pieno il mondo e la laurea non è più garanzia di occupazione. È un ritornello piuttosto comune negli ultimi anni. Se è vero che in alcuni settori un buon tecnico diplomato può trovare lavoro più facilmente di un laureato e che alcuni corsi universitari sono fabbriche di disoccupati, è altrettanto vero che i dati, almeno in provincia di Como, smentiscono chiaramente ogni generalizzazione sulla presunta scarsa utilità di una laurea. MIT, un'associazione comasca per lo sviluppo, l'orientamento e la valorizzazione delle risorse umane, ha presentato oggi un rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Como, all'interno del quale si leggono alcune analisi che traducono in numeri i vantaggi dei laureati dal punto di vista dell'occupazione. Laureati che rappresentano solamente il 10% dei neoassunti, ma il saldo tra avviamenti e cessazioni parla chiaro. Nel 2014, in provincia di Como, il bilancio è fortemente negativo sia per chi è in possesso di una licenza media, 2098 occupati in meno, sia per i diplomati, 919 posti di lavoro in meno. Solamente tra i laureati gli avviamenti superano le cessazioni di 278 unità. Anche la tipologia di contratto gioca a favore dei laureati. Emerge chiaramente, si legge nel rapporto, come il possesso di un titolo di studi elevato garantisca maggiori chance occupazionali e contratti di lavoro più stabili nel tempo. All'interno della provincia di Como, la città capoluogo, si conferma ancora il mercato capace di offrire maggiori opportunità lavorative. Nel 2014, un nuovo assunto su quattro ha trovato lavoro a Como. Buone anche le performance di Cantù ed Erba. Il settore che offre più posti è quello alberghiero e della ristorazione, che da solo genera il 14% delle nuove assunzioni, con picchi su Como e Cernobbio. Il profilo del lavoratore più comunemente assunto corrisponde a una donna di nazionalità italiana con un livello di istruzione medio-basso.